Musica Partecipata manifestazione questa mattina davanti alla sede centrale del Banco di Sardegna dove i dipendenti e sindacati di categoria hanno contestato il piano industriale del gruppo Biper di cui fa parte l'Istituto Sardo. L'obiettivo del piano è quello di modernizzare i servizi e attivare i canali informativi richiesti dal mercato ma gli effetti sul nostro territorio, a detta di tutti i sindacati, sono stati deleteri. Vogliamo prima di tutto che la banca operi per favorire la clientela. Abbiamo bisogno di assunzioni perché abbiamo un'età media un po' alta rispetto al sistema e vogliamo soprattutto che il Banco di Sardegna rimanga la banca dei sardi. Siamo per una modernità che sape però rispondere alle esigenze della clientela e sappia fare tesoro della professionalità, del sapere e della disponibilità dei lavoratori. Il piano industriale è mandato su dalla penisola dove non tengono conto delle realtà territoriali con chiusure, spopolando ancora una volta i nostri paesi. Sono già stati chiusi in Sardegna 65 su 102 sportelli e il piano industriale parla di nuovi tagli. La ristrutturazione della rete bancaria, inseguendo le tendenze del mercato, ha portato, oltre che la riduzione del personale, a un peggioramento dei servizi per la clientela. Si sta studiando un nuovo piano industriale che ovviamente non terrà conto ancora una volta delle persone, cioè siano essi clienti o dipendenti. Inoltre, protestano i sindacati, sono mancate le innovazioni tecnologiche promesse e i dipendenti sono stati coinvolti in mansioni di monitoraggio delle attività di vendita a discapito di quelle dedicate al rapporto con la clientela. Riteniamo che determinati prodotti non siano ancora idonei per il nostro territorio e che occorra un'introduzione graduale di queste. L'edilizia nell'isola resta uno dei temi al centro del dibattito politico, dentro e fuori palazzo, e sulla crisi dell'edilizia in Sardegna, Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari, ha un'opinione chiara. E la mancanza della legge urbanistica regionale è la causa principale della crisi del comparto, analizzando i dati relativi al cruscotto degli indicatori statistici 2016 che confermano la grave situazione delle imprese edili. Secondo Marco Ted e Giuseppe Fasolino, consigliere regionale di Forza Italia, tante imprese del comparto dell'edilizia hanno chiuso e sono stati persi migliaia di posti di lavoro, ma nel contempo sono aumentati i costi dei materiali edili. Una circostanza che, facendo il paio con il mancato aggiornamento del preziario regionale dei lavori pubblici, fermo al 2009, penalizza fortemente le imprese edili dell'indotto, oltre alla mancata legge urbanistica regionale. Ted e Fasolino hanno anche presentato un'interrogazione al presidente Francesco Piglia in un proposito. Resta critico ma fiducioso De Pascale. Oggi la vera priorità della Sardegna è valare la legge urbanistica. Il presidente Pigliaro mi ha assicurato che la porterà in giunta entro 15 giorni, poi in commissione e quindi consiglio. Sono sicuro che manterrà quanto mi ha detto. Una legge urbanistica, conclude De Pascale, non riguarda solo le costruzioni o l'edilizia, riguarda il vivere comune, perché chi vuole sistemare la propria casa, la propria fabbrica, il proprio negozio, dovrà confrontarsi con le norme. E in assenza di esse c'è il caos. Ritorno a Riciclail mostra mercato di oggetti nati dal riciclo di materiale di scarto. Il ricavato verrà interamente destinato a Casa Ail, la casa di accoglienza della sezione sassarese dell'Associazione Italiana Leucemie, riservata prioritariamente ai pazienti che devono sottoporsi a trattamento presso le strutture sanitarie cittadine. La quinta edizione del Riciclail è in corso fino al 27 febbraio nella Galleria Oshan a Predanietta. Aumentiamo sempre le possibilità di dare una nuova vita agli oggetti che sarebbero da scartare, da buttare, quindi barattoli, tappi. Sono tutte cose che si possono trasformare in oggetti carini che servono e quindi diciamo che per noi è anche una tutela dell'ambiente, perché se un barattolo lo butti due anni più tardi hai risparmiato l'ambiente. Poi abbiamo fatto una selezione dedicata alla biancheria della nonne, proprio per mettere qualcosa di particolare che oggi non si vede più, e poi un po' i soliti lavori che facciamo noi dell'Ail. La casa di accoglienza dell'Ail garantisce un soggiorno per chi arriva da fuori sassari e deve affrontare visite mediche o terapie in dei hospital. L'anno scorso più di 50 persone sono transitate per Casa Ail, quindi è un aiuto perché sono liberi di muoversi, qui loro possono cucinare, quindi veramente è un'accoglienza particolare, diciamo. E noi dobbiamo sostenerla perché i costi ci sono, invece noi chiediamo quasi niente a chi viene e quindi la sosteniamo con i nostri lavori e soprattutto col riciclo, col riciclo di tanti oggetti che andrebbero buttati, che andrebbero perduti. Dopo la conquista dell'SRB proseguono nel suo progetto di rilancio. Ne abbiamo parlato con il suo presidente Andrea Budroni. Riparita con la passione dei dirigenti, la mia, del direttore Mugiano, della vicepresidente Meledina, degli amici dirigenti Pintus e Piredda e di tutti quelli che ci hanno dato una mano e che ci hanno dato una mano, comprese le istituzioni. È stata una cavalcata, seppur una mini cavalcata. Abbiamo lavorato a sodo, il mister Torearca, Bruno Puzzo e Marco Pina hanno fatto lavorare le ragazze cinque giorni alla settimana, quindi ci siamo allenati da professionisti. Abbiamo lavorato dal 12 settembre fino a oggi, continueremo a farlo in vista di una programmazione ben più lunga rispetto a quella del campionato che si è appena concluso. Quindi attraverso la vittoria di questo campionato cerchiamo di riportare questa società e questa squadra in un ambito che più li compete. Serie B significa poter finalmente ritesserare tante di quelle giocatrici che avevano sposato il vostro progetto nonostante la terza serie? Sì, significherebbe quello. Significherebbe quello e lo significa ancora adesso. Cercheremo di tenere un'entità e uno status prettamente sardo di questa squadra, non sassarese, sardo. Poi più avanti vedremo se sarà possibile inserire qualche ragazza che ne voglia far parte di questo progetto ovviamente. Terza prova per il campionato invernale Veneno e il Golfo. Nelle acque dell'Isola Rossa, dopo la prima gara che si svolta a Casa del Sardo, è la seconda a Sintinu. Vento costante e una bella giornata di sole hanno caratterizzato la giornata di mare. 23 le imbarcazioni che si sono date battaglia su un percorso a due boe con un periplo dell'Isola 8 e due giri per un totale di 9 miglia. Spettacolare la partenza alla quale Pulce 2 di Italo Senes che è arrivato per primo nel procedere della gara con Buddana, poi Ferula e Nur che hanno duellato sino alla fine. Due sole donne al timone, una francese Caterine della Monica su Era Ora e un'italiana Maria Antonietta Zuichi su Ilia. La classifica finale ha visto al primo posto per le barche stazzate maggiori di 33 piedi Buddana di Giuseppe Rivecio, Nur di Marco Terzitta e Ferula di Ettore Tanferna. Per quelle di stanza inferiore ai 33 piedi per il primo posto Paluc Terzo di Giacomo Ussini seguito da Era Ora di Caterine della Monica e poi Inversol di Mario Canopoli. In categoria crociera maggiore di 33 piedi al primo posto Asa di Domenico Ussini, poi Vittoria di Antonio Loriga e Eleonora Duse di Paolo Carlini. Stessa categoria ma di stanza inferiore ai 33 piedi abbiamo Paprica di Cicito Secchi, Ilia Centrovilli Cosinaria e terza che onda di Paolo Murinedu. Grande successo di pubblico per i regionali di Lotta Stile Libero, Grappling, MMA e Sistrumpa organizzati dalla Polisportiva Atlon. Atleti a tutta la Sardegna si sono confrontati sulle tappettine del Palazzo Radimigni. Questi i risultati. Per il campionato regionale di Lotta Stile Libero la squadra prima classificata è la Polisportiva Atlon Sassari. Per le società in riferimento al Grappling e MMA la prima classificata è l'SD Budo Cansorso. Per il campionato regionale di Sistrumpa il primo classificato è Gigliotti Edoardo e alla Piazza d'Onore Marco Gigliotti. Ai nostri microfoni a fine manifestazione Saverio Longo, presidente nazionale della Grappling e MMA. Ringrazio Vincenzo Piroddu per questa magnifica giornata di sport. C'è stata molta affluenza di atleti sia di Grappling che di MMA e siamo tutti molto contenti. Questa è una soluzione molto molto bella questa di unire la lotta olimpica insieme al Grappling e all'MMA perché sono tre sport che hanno molti punti in comune. Il Grappling e la lotta hanno la stessa federazione internazionale di riferimento la Unite World Wrestling. Le MMA sono costituite anche da lotta e grappling quindi diciamo una parte essenziale dell'MMA è la lotta olimpica e il Grappling. Quindi è bellissima questa manifestazione è una delle prime, forse la prima in Italia è stata qua in Sardegna a unire questi sport e negli anni sta andando sempre meglio. Quindi sono molto molto contento. La Federazione Italiana Grappling e MMA si sta molto impegnando qua in Sardegna anche grazie alla collaborazione al validissimo e importantissimo aiuto di Vincenzo. Tutti i partecipanti alla competizione, tutti i giovani che stanno qui combattendo. Un grazie veramente a tutti dalla Figma, a tutta la Sardegna, agli atleti sardi. Grazie.